ciao noi siamo il collettivo ballad ambicide siamo in residenza al teatro due mondi di faenza di nuovo e capitiamo spesso si sta molto bene siamo contenti e siamo in residenza col nostro spettacolo per l'infanzia che si chiama california and the routine che ha vinto una menzione speciale del premio scenario infanzia 2022 e questi sono i miei colleghi e colleghe che vi salutano ciao che vi salutano che è uno spettacolo particolare perché non è frontale è inerante diciamo e in particolare si è prestato bene perché la sala è comunicante direttamente col poyer direttamente con l'esterno però questo in molti teatri accade penso quindi è uno spettacolo sul tema della finzione e della superstizione utilizzati in ambito educativo quindi è uno spettacolo che da una parte esalta questi questi aspetti perché come a livello di creazione possibilità immaginativa e dall'altra li critica come elementi di didattica educazione distorti e un po moraleggianti però non è non è una conferenza naturalmente ma è una mega avventura vivono i bambini in cui incontrano creature misteriose e sono queste qua e abbiamo appena fatto una una replica che è la prima replica dello spettacolo finito praticamente giusto praticamente e che prevedeva anche un momento di dibattito che è andato abbastanza bene avevamo un regista tra i bambini e adesso andiamo direttamente a non voglio parlare troppo di noi parlo di voi parlo di te noi abbiamo Elena Guido e Selene che sono gli attori di questo spettacolo e come vedete sono attori per il resto siamo particolarmente i tanti e attraenti Grazie